E io ripeto, uno, l'ho detto all'inizio, non sceglie il proprio soggetto, è scelto e non c'è scampo, non c'è scampo, è qualcosa che è sopra di te e tu sei, nel momento in cui sai, come nel momento in cui ti innamori, sai, è successo qualcosa, ma tu sai benissimo che sarebbe nico che non andassi a cacciarti dei guai con quella persona, eccetera, però ti piace, che devi fare. E questo è uguale per un soggetto, tu senti ad un certo punto un'altra azione e io mi rendo conto ad un certo punto che l'unica cosa che io posso fare per questo anelito che ho, è confrontarmi con le diverse forme del credere di tutto il mondo, di tutti i tempi. A trent'anni dico, bel casino, perché insomma adesso non avevo una più validità di dove cominciare, cioè qui non ero attrezzata né culturalmente, cioè in nessuna maniera, non sapevo veramente né come avrei fatto né come sarebbe, cioè era un problema che era talmente grande, questa cosa talmente vasta, talmente sconfinata da dove iniziare, ma poi chi sono io, cioè non sapevo neanche come definirmela, no? E mi ricordo che ero veramente in crisi, metto un anno a iniziare a dirmi da dove comincio, ed era l'anno 2000, ed era il visite dell'anno, il giubileo, la croce, le cose, eccetera, vabbè, partiamo di lì. E dentro di me dico, nomino il dono questo progetto, ma lo nomino, do questo titolo come un mancorrente, tanto per avere una roba a cui appoggiarmi, perché io ho bisogno dei titoli, perché questo aiuta. In realtà non avevo la minima percezione della portata che poi questa parola avrà nel compimento di questo lavoro e che questa parola ha di fatto indipendentemente da Francia Fiori o in assoluto. Io non nomino il dono, perché così, molto semplicemente, molto semplicisticamente, vabbè, tutti quelli che credono, si dice, in tutto il mondo che hanno un dono, e vabbè, e me la spiego così. E inizio con, mi do anche un sottotitolo, che poi modifico altre tre volte nel giro di pochi mesi, e dico, vabbè, le religioni del mondo. Poi mi rendo conto che in realtà le religioni sono soltanto, si chiamano propriamente, sono propriamente dette religioni, solamente quelle che hanno, che credo, la religione, le religioni monoteiste, quelle che hanno soltanto due mila anni, ma tutte le dimensioni, tutte le filosofie orientali e tutte le forme di credenza ancestrale, cioè le prime forme e le più antiche forme del credere, non si chiama una religione, per cui rettifico e dico la spiritualità nel mondo, e parto per tre anni con questa cosa, il dono alla spiritualità. Sto facendo un lavoro sulla spiritualità, mi dico, per esempio, io lavoro da sola, per me stessa, eccetera. Dopo tre anni che mi imbarco su sta cosa in giro e vado, decido che devo andare in maniera arbitraria laddove mi porta lo sguardo, dove sono attirata, e cerco quei rituali più antichi, quelli che sono più uguali a se stessi, e cerco in realtà molto fin da subito delle risonanze in delle forme diverse di rituali, per cui, per esempio, tutti i rituali dell'acqua, tutti i rituali legati alla montagna, tutti i rituali legati al corpo, e mi rendo conto che ci sono delle risonanze straordinarie, visuali, cioè io vedo, vado in giro, poi questa cosa mi ha portato in 38 paesi diversi, su una sessantina di dimensioni, in dieci anni, mi rendo conto, andando in posti disparati, ad angoli disparati della terra, che la gente fa gli stessi gesti, e di fatto gli stessi atti, ma se li spiega in maniera diversa, nel senso che corrispondono a delle interpretazioni diverse, tuttavia ciò che io fotografo è uguale, è visualmente identico. Allora questa cosa, caspita, questa cosa è pazzesca, non solo, mi rendo anche conto, dopo tre anni che giro, di una contraddizione in termini, in questo lavoro che io mi dicevo che stavo facendo sulla spiritualità, che in realtà l'elemento più ricorrente di fatto nelle fotografie, è il corpo umano, cioè è il corpo, la pelle, la carne, che aspetta, e dico, ma che io si contraddizzo, sono uscita di tema, e poi come faccio uscire di tema dal mio tema, cioè è il mio lavoro, che lo sono detto, io sto facendo, cioè non lo faccio per nessuno, e dico sì, ma io non sto facendo un lavoro sulla spiritualità, era un problema, una certa cosa, di tutti questi corpi, il corpo è l'evidenza del mistero, è un'evidenza ed è un mistero, un mistero non si può spiegare, è un evidente, è evidente che è un mistero, il corpo è l'evidenza del mistero, dunque, se il corpo, se l'anima è ombra, il corpo è ombra dell'uomo. A un certo punto, mi rendo conto, anche qui scoprendo l'acqua calda, ma mi rendo conto concretamente della transitività di questa parola, il dono, questo ha il quinto anno, del fatto che il dono è evidentemente, come tutti sappiamo, è una parola transitiva, tra cui una parola ospite, e dei due sensi, è l'offerta, ma è anche il ringraziamento, che fa queste offerte per ricevere qualcosa, per cui poi ringrazierà e poi ricomincia, poi ringrazia, poi fa delle altre offerte, e questa cosa gira perpetuamente, tutti i rituali di tutto il mondo, di tutte le grezze, di tutti i tempi, girano su questo meccanismo, su questo dispositivo, del dono, dell'offerta, del ringraziamento, del dare e del ricevere solo, ma qual è l'oggetto, che cosa diavolo offrono, e cos'è che vogliono ricevere, e per cui ringraziano, tutte le volte, in tutti i rituali, perché se c'è questo dispositivo, ci sarà anche un oggetto, che viene offerto, ricevuto ogni volta, e l'oggetto, è in tutti i casi, sempre, la vita, ma la vita, in senso stretto, la vita umana, la vita corporea, la vita dunque, sono tutti rituali, per la fertilità, della terra, o per la fertilità, fisica, dell'essere, sono tutti per cui, per la propiziazione, e delle nascite, sono tutti per la poliziazione, la lingua morte, è una delle prime parole, della storia del linguaggio, perché è uno, degli atti primi, dell'uomo, è una delle prime, consapevolezze, dell'umanità, e mi metto, per l'ultimo anno, per il loro, a cercare, questa parola, in tutte, in un numero, considero, arregolissimo, di lingue, morte, di lingue prime, tutti questi, diversi significati, della parola donna, che sono tutti, che girano, tutti evidentemente, intorno, a dare, a ricevere, all'offerta, all'ingraziamento, però vanno, dal sacrificio, al tributo, alla donazione, alla grazia, eccetera, eccetera, e, e lì, capisco, che ho, concluso, il ciclo, di questo lavoro, che altrimenti, avrei potuto, continuare a fare, in un interno, quando ho finito, il dono, in realtà, mi piaciata, l'isola, ho già compreso il giro, avevo una lista infinita di posti, che vi detente, non sono riuscita a farli tutti, né potrei mai, perché non aveva, non era, non ha mai avuto un'intenzione, di carattere enciclopedico, ma di percorso, e non, e non di inventario, perché sarebbe stato impossibile, perché comunque, non sarebbe, effettivo, e poi comunque, cioè, chi sono io, per mettermi a fare un inventario, delle forme, del credere, in modo che io posso solo fare, un percorso, ma ho capito che a quel punto, il mio percorso era, si era compiuto, perché avevo risolto, il senso di questa parola, che era quello che mi aveva mosso, su questo percorso, e si è chiuso.